Buongiorno e bentrovati con Mattino 6 lunedì 25 luglio 2016 e l'ultima settimana per questo mese di luglio, una settimana che ovviamente iniziamo insieme e vi dico subito che nel corso di questa nostra rassegna, più precisamente nella seconda parte, vedremo le fasi salienti dell'amichevole che si è tenuta ieri a Palena tra Pescara e Teramo con la vittoria del Pescara per 2 a 0, ma anche il Teramo ha molto ben figurato e ascolteremo anche le interviste ai protagonisti, sono le due squadre rimaste nei campionati professionistici per quanto riguarda la nostra regione. Ieri è stata una vera e propria festa in quel di Palena, ma chiaramente la nostra rassegna partirà con le testate nazionali, poi vedremo anche quelle locali e ci concentreremo anche sulle pagine dei quotidiani sportivi nazionali con anche il Gran Premio di ieri di Formula 1 e con la vittoria del Tour de France di Chris Froome. Tutto questo lo vedremo nel corso della nostra rassegna, intanto partiamo con le testate nazionali, Corriere della Sera, questo è il titolo d'apertura, il killer aveva un complice in Germania, un nuovo caso, il rifugiato uccide una donna con un macete, l'assassino di Monaco preparava l'attacco da un anno, il manifesto e la pistola trovata in rete. Poi l'editoriale di Antonio Polito, i populisti vanno presi sul serio. Poi ancora la fotonotizia Dover, ore di attesa per i controlli voluti da Parigi, imbarcarsi per la Francia nel caos. E qui vediamo le lunghe file appunto a Dover. Poi ancora la rivelazione, così il padre l'ha visto in tv e ha avvisato la polizia, questo sempre in riferimento alla strage di Monaco. Legalizzazione, l'importanza della legge e del dibattito sulla cannabis nell'articolo di Paolo Mieli. Poi in taglio medio, Padoan e Visco sulle banche, i risparmiatori non rischiano, Montepaschi il nodo dell'aumento di capitale. In basso e troppo brava annullano il concorso. L'asta di Pavia non riconosce l'unica idonea perché le domande erano difficili. Andiamo ora con la prima pagina della Repubblica che apre così. Sorpresa, Hillary contro Trump, c'è Bloomberg, l'ex sindaco repubblicano di New York. Sceglie Clinton al via la convention, Donald shock, terrorismo, colpa dell'Europa. E poi esplosione in Baviera, almeno un morto e un kamikaze. Germania nell'incubo. E poi ancora il caso, il primo sì tra due donne, Orlando. Ora le adozioni. Andiamo in basso, stipendi Rai, il PD sfida ai vertici, tetto di 240 mila euro per tutti. Orfini una vergogna, Renzi rilancia sul limite. Poi ancora in basso con i figli a caccia di Pokémon sulla spiegia di Tormina inseguendo i fantasmi digitali. Un po' la mania degli ultimi giorni, dell'ultimo periodo. Andiamo ora con la prima pagina del giornale. Questo è il titolo d'apertura. La trasparenza sì, tagli no. I super stipendi Rai si mangiano più di metà canone. Un miliardo per dipendenti e consulenti. E poi profeti di false promesse. Questo è il titolo dell'editoriale. Andiamo a vedere altri titoli. A centropagine, riduzione IRPEF dal governo, un altro rinvio. E poi Alfano in difficoltà cerca Forza Italia, meno TV per Salvini. E poi ancora in basso, sentenza contro la moglie. Il canto libero di Battisti, i giudici gli tolgono l'oblio. E poi ancora Caos Rio, l'Italia si paga i lavori al villaggio olimpico. E poi ancora paura in Germania. Monaco preso un complice sedicenne e un profugo uccide una donna incinta. Avanti ancora con la prima pagina del Fatto Quotidiano. Continuiamo la nostra panoramica sulle principali testate nazionali. Questa è l'apertura del Fatto. Super stipendi, sprechi Rai, colpa del governo. Parla Roberto Fico, presidente di Vigilanza. Convoco dall'orto. E poi sotto la testata, antisemitismo. Non solo Pokémon Go in rete chiusa l'app sugli ebrei nei lager. Proteste ebraiche per l'oltraggio alla Shoah. In Germania, Stoccarda, folle e siriano, uccide donna col macete. Un altro squilibrato, semina morte. Poi al centro, storie di copertina, passata la festa. Gabato il compagno, la Kermesse dell'Unità. Le Kermesse dell'Unità erano un punto centrale del dibattito politico italiano. E' un introito cospicuo. Sono quasi abbandonate. Mancano i volontari e i militanti di una volta. Ma soprattutto la passione. Avanti ancora con la prima pagina di Libero. Tremonti Furius per rubarvi soldi. L'Europa imbroglia. L'ex ministro dell'economia, eurocrisi, globalizzazione, squali della finanza e politici incompetenti. Hanno distrutto l'Unione. Ma ora la ruota sta girando. E poi c'è l'editoriale di Vittorio Feltri. La strage di Monaco. Chi dice che l'Islam non c'entra? E' più pazzo del killer. Poi in fila 15 ore per andare in Inghilterra la vendetta francese per Brexit. Qui vediamo il lungo serpentone sulle strade di Dover. A centropagina, centrodestra in defibrillazione per Parisi. Alfano pronto a tornare ma a due condizioni. Avanti ancora con la prima pagina dell'Unità. L'Italia sfida al terrore. Le linee del Pieno Nazionale per la Sicurezza, la prevenzione e il contrasto al rischio jihadista. La strategia della controradicalizzazione anche con operatori nelle scuole e nelle carceri. Poi al centro Istanbul la piazza democratica. Non al golpe ma difendiamo la libertà. Ancora in basso Cannabis. L'ultima battaglia d'estate in Parlamento. Prima pagina della stampa che andiamo a vedere. Migranti in Italia. Tre comuni su quattro non li accolgono. L'Europa litiga sui paesi sicuri per i rimpatri. Tragedia in Libia. Decine di corpi sulle spiagge. Ecco la prima mappa sulla distribuzione degli oltre 100.000 profughi. E poi Baviera. Esplosione in un ristorante. Monaco ha fermato un complice. 16 anni. Il killer aveva preso l'arma su internet. Anche sulla stampa la fotonotizia è dedicata al serpentone di mezzi a Dover. Il grande ingorgo. Misure antiterrorismo. Londra ribatte contro Parigi. Vendetta per la Brexit. Andiamo a chiudere con la prima pagina del messaggero nazionale. Anche in questo caso si parla di banche. Sulle banche il titolo d'apertura. Banche italiane. Non c'è rischio. Padoan e Visco assicurano sistema solido. E dai salvataggi nessuna ricaduta sui risparmiatori. Monte dei Paschi da Palazzo Chigi. Ottimismo per la soluzione di mercato. Ma serve anche l'ok della BCE. Poi sotto la testata. Roma smart ma non troppo per ambiente e banda larga. Simboli. Totti e dalosti. Ultime bandiere. Tra un anno diranno addio. Parisi in campo. Ecco l'editoriale di Alessandro Campi. Centrodestra le chance e le insidie di una sfida. Poi controlli antiterrorismo. Inferno a Dover. Auto in coda per 16 ore. Monaco strage preparata da un anno. Arrestato l'amico 16enne del killer. Poi in taglio medio. Concorsone caccia agli esaminatori. Dopo la maxifuga il ministero costretto ad abbassare i requisiti. E alzare i compensi per convincere i professori. Poi in basso. Russia ai giochi. Via libera del CIO. Doping. Le singole federazioni decideranno sugli atleti. Invece da quest'altra parte. Cannabis. La camera verso il rinvio. Partiti divisi sulla legalizzazione dell'uso personale. Possiamo lasciare le testate nazionali. Adesso andiamo a vedere le prime pagine del centro. delle quattro edizioni del centro. Partendo dall'edizione aquilana. Ecco qui altre maxi bollette da 2.500 euro. All'Aquila nuova ondata di conguagli per 5.437 famiglie di case e map. Poi al centro la fotonotizia. Gran Sasso Bike Day in 200 sfidano. Pioggia e vento per ricordare il pirata Pantani. Di spalla i richiami di cronaca. All'Aquila. Palazzo Fibioni spesi 16.000 euro per gas e luce. Sport in lutto. Sempre all'Aquila. Il Cus piange la morte di Murador. Autostrade. Bretella dell'A25. Adesso spunta il fronte del Sì a Sulmona. E poi ancora il Foundry. Stoppa le macchine. Poche commesse. Produzione ferma per otto turni ad agosto. Il buongiorno Abruzzo di Antonio De Frenza. Le generose indennità dei politici regionali. All'interno ci andremo più tardi. Chiaramente continuiamo a esplorare le prime pagine. Ora siamo su quella di Chieti Lanciano Vasto. Sixti diventa un affare da 5 miliardi. L'azienda teatina finita nel baratro si trasforma in un miracolo cinese. La fotonotizia. L'incidente a Bocca di Valle si ferisce per vedere le cascate. Soccorsa una donna di 51 anni. I richiami di cronaca. Vasto la notte bianca. Due parroci ai giovani. Non vi sballate. A Lanciano la scelta pilota. Enti Bavaglio alle nomine fatte dai politici. E poi a Casalbordino le borse lavoro a chi pulisce le spiagge sporche. E poi a San Vito giallo delle macchie in mare. Il comune ordina le analisi su misteriose chiazze scure. Prima pagina dell'edizione di Teramo. Pediatra all'ASL. Datemi più assistiti. Santomero presenta di fida perché si ritrova con soli 48 bimbi. Poi sotto la testata per lo sport. Teramo in palla. Una doppia festa per San Sovini. Nell'Ami che vuole con il Pescara. La fotonotizia. Una nuova azienda a Isola del Gran Sasso. In pochi mesi conquistano l'Italia con i biscotti senza glutine. I richiami di cronaca. In vibrata a crisi d'asma ma il farmacista nega la medicina. E poi a Teramo il PD accusa piscina affidata senza firmare la convenzione. Ad Albadriatica turista dona libri in spiaggia. Una mini biblioteca. Rubano auto. Manette ad Alba. Arrestati due giovani al casello dopo l'inseguimento sulla A14. Ed ora andiamo a vedere la prima pagina dell'edizione di Pescara del Centro. In questo caso c'è un fatto di cronaca che guadagna il titolo d'apertura. Lo voleva uccidere per vendetta. False ricette di Kumadin a casa della donna arrestata con figlio e compice. Qui vediamo nei tondini la donna e il complice. Il figlio invece che viene ripreso da una videocamera all'interno di una farmacia. Sotto la testata è Caprari Show Festa Pescara con 2000 tifosi. Derby col Teramo a Palena. E poi i richiami di spalla a Montesilvano ai consiglieri stipendi per 12.000 euro. In Via Chieti a Pescara appartamento occupato dai senza tetto. E sempre a Pescara. Benni della provincia va all'asta l'ex fabbrica di Tapparelle. Andiamo ora all'interno del centro. Partiamo da pagina 7. La pagina sull'Abruzzo. Ecco qui i costi della politica. Uno spreco i rimborsi chilometrici dei consiglieri. Ogni eletto incassa dai 4.100 ai 4.500 euro al mese. Per i costi di spostamento dalla propria abitazione all'emiciclo. Bracco di Sinistra Italiana propone di dimezzarli. E poi ancora. Monitor Intesa San Paolo. Cresce l'export dei distretti. Bene pasta e vino giù i mobili. Poi in Costituzione arriva l'equiparazione dello stipendio con quello del sindaco. Autostrada si ascoltino i sindaci. Di Pangrazio sul progetto A24 e A25. La giunta sospenda la presa d'atto. E poi ancora. Equitalia Sportello per gli over 65. Attivo per le informazioni non per i pagamenti. Da oggi corsia preferenziale negli uffici dei capoluoghi di provincia. Avanti con le pagine della cronaca a Pescara. Tenta di uccidere il marito. I retroscena allontanata da casa voleva vendicarsi. Daniela Lorusso arrestata con il figlio. E un complice scioglieva nelle bevande il kumadin che si procurava con false ricette. Sequestrati in casa, timbri e farmaci. E poi ancora in farmacia con ricette false. Incastrati dalle telecamere. I NAS scovano i fotogrammi del figlio di lei che acquista il potente anticoagulante. Il primario di ematologia somministrato di nascosto anche durante la degenza. E poi la difesa. Il movente non regge. Lui vedovo. Lei già è denunciata per truffa. E qui appunto abbiamo le foto della donna arrestata Daniela Lorusso di 42 anni. Poi il figlio Michele Grosso e il complice Edwin Moschera ai domiciliari. Avanti ancora. La provincia mette all'asta l'ex fabbrica di Tapparelle. Pubblicato il bando per la vendita della Napolplast al prezzo di 1,4 milioni di euro. Ma l'immobile di via Breviglieri si trova nella zona di rischio aeroportuale. La denuncia dei residenti. Appartamento di via Chieti occupato dai senza tetto. Lo stabile è quello che vediamo nella foto. A Montesilvano consiglieri 12 mila euro di stipendi. Ecco le buste paga. Di Maggio, di Stefano e di Blacio. Tra coloro che prendono di più. A Penne, Frisa, ospedale con una sola ambulanza. Continua a tenere banco il discorso sanità nella zona vestina. In particolare appunto a Penne. Siamo ora nelle pagine di Chieti e l'Aquila. Il sogno rinasce altrove. La Mi 60, ora cinese, vuole entrare in borsa dalla debacle dell'azienda di Chieti Scalo. Ha una operazione da 5 miliardi di dollari. L'imprenditore Jackie Wu ha creato un impero grazie al marchio Made in Italy. Fu Wixi Hassan a fondare la società nel 1983 insieme all'ingegner Rossi. La crisi scoppiò nel 2011, subito dopo la morte del manager romano. La vecchia spa è arrivata alle fasi finali della liquidazione. Fonti sindacali svelano un interesse di Toto al capannone scalino. A Lanciano, CDA, società partecipate, bandi aperti a tutti. Basta con le nomine politiche per i consigli direttivi. Il sindaco Pupillo, una scelta di merito. Andiamo nella pagina dell'Aquila. Post sisma, incubo, utenze. Maxi bollette da 2.500 euro per il progetto case e map. La nuova ondata di conguaglie riguarda 5.437 famiglie dei villaggi provvisori e il comune cede a una società esterna il recupero crediti dei morosi. Palazzo Fibioni, l'ufficio di rappresentanza, spende 16.000 euro di gas e luce. Il trasferimento nello storico palazzo centrale restaurato dopo il terremoto è avvenuto nell'agosto 2015. Lo scorso mese il giallo del distacco delle forniture. Poi poche commesse e il foundry ferma il lavoro. Lo stabilimento non chiude ad agosto ma in rodaggio dopo la cessione ai cinesi di SMIC. Ora vediamo la pagina di Teramo, poi vedremo la prima pagina del messaggero Abruzzo e faremo il nostro break meteo con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Allora la pagina di Teramo del centro. Frollini per celiaci, nuova azienda a isola. Hanno conquistato l'Italia con i biscotti senza glutine. Tre dipendenti della Lazzaroni decidono di rischiare e mettersi in proprio. Dolci Amori del Gran Sasso ora è in tutte le farmacie e punta all'estero. Ecco qui i tre soci, Pier Michele, Dolci Amore e Bruno Merlini e poi nella seconda foto Gianluca Tiberi. Avanti ancora con il furto nelle marche. Rubano una smart e fuggono arrestati al casello di Alba. Comune, piscina affidata senza convenzioni. Il PD attacca l'impianto e gestito dai privati senza alcuna firma. E poi in basso, piedrata di base, si ritrova con soli 48 bimbi. Santo Mero diffida la ASL perché faccia rispettare i tetti di assistiti ai colleghi che sforano il limite massimo. Prima pagina che andiamo a vedere ora è quella del messaggero Abruzzo. L'apertura è guadagnata dal fatto di cronaca di questi ultimi due giorni a Pescara. Farmaci killer per il marito. Svelato dai carabinieri il giallo che a Pescara ha portato all'arresto di madre e figlio e del loro complice ingaggiato per picchiare l'uomo. Un piano per il delitto perfetto. Le intercettazioni. Metti il Coumadin nel Gatorade. E poi ancora sotto la testata, notti bianche, festa dello sport a Pineto con Gianluca Ginobre del trio Il Volo. Automobilismo, il rombo di popoli, fagioli, trionfa, le svolte, una edizione super. Per il calcio Pescara doppietta argentina con Simeone arriva a Palacios. E poi di spalla salta anche la mannoia un'altra estate tra le gaff. La musica è finita. A Pescara restano i dubbi sui fondi IPA destinati all'evento. E poi la fotonotizia viale della Croce Rossa cambia volto. L'Aquila rinasce. In taglio medio, cittadini vittime delle buche. Il comune paga. Casi sempre più frequenti a Teramo, a Chieti, l'emergenza è l'acquedotto Colabrodo. E poi in basso il vizio assurdo sul Mona. Stop fumo in bagno. E ora il nostro break meteo con Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Andrea. Buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Subito le ultime. Allora Andrea, la settimana inizierà all'insegna del tempo instabile. Perché la nostra penisola è interessata dal passaggio di un nucleo di aria fresca in quota che nelle prossime ore favorirà inizialmente al mattino annuvolamenti lungo la fascia orientale della nostra regione localmente associati a dei rovesci o a dei temporali. Questa situazione invece sarà diversa al mattino sul settore occidentale dove splenderà il sole e il cielo sarà prevalentemente sgombro da numeri significativi. Ma attenzione perché nel corso della mattinata e nel pomeriggio assisteremo allo sviluppo di cellule temporalesche, di temporali a partire dalle zone altocollinari e montuose, in estensione stavolta verso la Marsica e l'Aquilano, con possibili fenomeni di forte intensità. Quindi ci sono tutti i presupposti per assistere a dei temporali localmente intensi che interesseranno l'Aquilano, la Marsica, localmente accompagnati da grandi nate. I temporali invece potrebbero interessare anche e soprattutto il Chietino nel corso del pomeriggio. Anche qui non si escludono fenomeni di una certa consistenza. Poi in serata e nottata assisteremo a una graduale attenuazione della numerosità e dei fenomeni anche se poi l'instabilità, anche se meno accentuata rispetto alla giornata odierna, tenderà a riproporsi nella giornata di domani. In particolar modo, ancora una volta, verso le zone interne soprattutto, sulle zone interne e montuose. Non cambierà di molto la situazione, almeno fino alla giornata di giovedì. Dopo condizioni iniziali di cielo prevalentemente poco numeroso, nel pomeriggio assisteremo sempre alla formazione di addensamenti localmente associati a delle precipitazioni poi in estensione stavolta verso il settore orientale. Questo almeno, Andrea, fino alla giornata di giovedì. Poi, alla luce dei dati attuali a nostra disposizione, sembra possibile un deciso miglioramento del tempo nel fine settimana con temperature in aumento. Mentre nelle prossime ore, nella giornata di domani, i valori tendranno lievemente a diminuire, soprattutto nelle zone interessate dai fenomeni, quindi in particolar modo sulla Marsica e nell'Aquilano. Andrea. Bene Giovanni, invece il tuo Pescara, ieri questa amichevole col Teramo, due gol, che sensazione hai, no? Anche alla luce di queste voci di mercato, con Verre che insomma non si sa se resta, con questo attaccante che deve arrivare. Che dici? Ma sì, diciamo che questo è il calcio d'agosto, di luglio è il calcio estivo, quello che chiamo calcio d'agosto, anche se non siamo nel mese di agosto, perché insomma non... Il concetto è quello. Il concetto è quello, esattamente. Però diciamo che per quel che riguarda il mercato, il Pescara ha, secondo me, a mio avviso, bisogno di due o tre pedine ancora, da sistemare, soprattutto il reparto difensivo, perché è vero che ci sono Campagnaro e Coda, che sono ottimi giocatori, però ovviamente l'anno scorso abbiamo visto quanto abbiamo sofferto in mancanza di Campagnaro, perché si è infortunato spesso, quindi è anche lo stesso Coda, quindi abbiamo bisogno di, soprattutto di rinforzare il reparto difensivo, e poi abbiamo sicuramente bisogno di una punta, di un certo spessore. Questo è il mio parere, ma la società lo sa benissimo, e se invece, se dovesse partire Verre, poi dovremmo ritoccare anche il centrocampo. Io spero che Verre non parta, perché si tratta di un giovane, un talento, mi avviso, ha tante qualità questo giocatore, e spero che abbia la voglia di restare qui a Pescara, perché non vada via, perché è una pedina fondamentale per il centrocampo della squadra. Quindi se non parte Verre, abbiamo bisogno soprattutto di un attaccante e almeno di un difensore. Due o tre pedine fondamentali, poi possiamo disputare questo campionato che inizia ovviamente con delle partite veramente difficili per il Pescara, perché giocare contro il Napoli, poi la trasferta con il Sassuolo e poi avere l'Inter in casa. Insomma, è un bel inizio, un inizio col botto, però va bene, in Pescara vediamo cosa farà, insomma, innanzitutto spettiamo la squadra che venga completata e poi vediamo come imposterà la squadra il mister Otto. A te Andrea. Grazie, grazie Giovanni. Buona giornata e buon lunedì. Grazie Andrea, una buona giornata anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie, grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Riprendiamo la nostra rassegna sul messaggero Abruzzo. Cocktail di farmaci per tentare il delitto perfetto con un mix di comadine e adrenalina. Daniela Lorusso ha cercato per mesi di uccidere il marito con l'aiuto del figlio. Le indagini partite dalla misteriosa aggressione a sfondo sessuale denunciata dalla donna a giugno scorso. Coppia diabolica in manette domiciliare, anche un colombiano ha soldato per picchiare l'uomo. E poi le intercettazioni, ha preso solo tre benzodiazepine, le altre due non si sono sciolte. Un giro di telefonate e sms inchioda i familiari. Prendi il Gatorade prima di andare in ospedale. Prima la pagina dell'Aquila. Pronta la rivoluzione per Viale della Croce Rossa. Il 29 luglio fissata la conferenza dei servizi per l'accordo di programma con la provincia. Il piano di recupero sarà un vero e proprio restyling. Costerà 10,4 milioni di euro. L'assessore Di Stefano, il terremoto è stata un'occasione per migliorare urbanisticamente delle aree importanti. E poi Sport Aquilano in lutto è morto Franco Murador all'età di 63 anni. E poi in basso sul lavoro la CGL ha fatto il suo dovere. Il segretario Trasatti replica le accuse di appello per l'Aquila. Per la cronaca con la mountain bike finisce in un dirupo grave un 24enne. Tutto questo a campo felice. E poi stalking anche con foto osè rinviato a giudizio. Avanti ancora con la pagina della Marsica ad Avezzano. E ora faccio il nuovo piano regolatore. Il sindaco di Pangrazio ritira dal Consiglio il punto sulle varianti e spara una proposta sorprendente. Niente colate di cemento ma vogliamo dare la possibilità di farsi una casa in periferia a gente che non ha dove abitare. È una scelta istituzionale anche le opposizioni chiamate a decidere. Avanti ancora pagina di Chieti rete idrica colabrodo disagi infiniti almeno 60 rotture registrate in tutti i quartieri. I residenti alzano la voce e chiedono riparazioni risolutive. Febo del PD accusa una maggioranza di inefficienze la carenza di risorse limita la capacità di intervento. L'assessore di Felice dice è stata costituita una task force con operai comunali e una ditta esterna per le urgenze. Strade allagate da getti d'acqua sono uno scenario purtroppo consueto dal centro alle periferie. A vasto sotto esame il guardrail della tragedia l'esperto della procura sulla statale 16. Oggi il perito sarà sul posto per far luce sull'incidente costato la vita a due ragazzi. Poi ancora in basso asfalto a Porta Caldari addio buche nel comune di Ortona. A proposito di buche pericolose il comune paga tutto questo a Teramo lente dall'inizio dell'anno chiamato a rispondere decine di volte in tribunale delle cadute accidentali risarcimento i danni ai cittadini per migliaia di euro per marciapiedi sconnessi e strade ridotte a Colabrodo. Dall'elenco delle richieste ecco la mappa delle zone più rischiose. a Palazzo Municipale un indipendente caduta per le scale a causa della mancanza di passamano e qui vediamo una foto con tante buche su un marciapiede sempre a Teramo. A Pineto invece successo della notte bianca dello sport l'abbraccio di Ginobble con Calabretta lanciati cento palloncini con la scritta a Marco il cantante del volo star della serata eccolo qui Gianluca Ginobble del volo con il sindaco di Pineto Robert Berrocchio e poi a Giulianova cento chilometri a piedi per i Pokémon le storie del raduno organizzato in città la psicoterapeuta la realtà aumentata può spronare a stare in mezzo agli altri ci fermiamo qui con la prima parte della nostra rassegna stampa poi la prossima la seconda parte sarà tutta dedicata allo sport con le testate nazionali con quelle locali e poi con le attenzioni puntate sull'amichevole di ieri a Palena tra Pescara e Teramo di nuovo buongiorno è la seconda parte di mattino 6 come detto interamente dedicata alle pagine dello sport e iniziamo dalla prima pagina della gazzetta ecco qui l'apertura assalto ai cardi allarme inter il Napoli ci prova e occhio ad altri tiri mancini di Laurenti 37 milioni per Maurito Muro Suning nemmeno per 60 il tecnico è irritato verso la rottura sotto la testata i guain di bala i segreti della coppia dei campioni il nuovo tandem argentino della Juve spaventa l'Europa solo Suarez Messi e CR7 Benzema hanno segnato di più l'anno scorso il pipita a Torino entro mercoledì conto alla rovescia Pogba United poi diversi richiami albero al Milan l'usato sicuro arriva dal Real calcio d'estate Belotti e Paloschi che lampi e poi ancora europeo under 19 finale amara per gli azzurrini Francia troppo forte 4 a 0 tra gli azzurrini in campo ovviamente anche il difensore del Pescara Vitturini e poi altri richiami immobile Giacuore Lazio è stata sempre la mia prima scelta giochi da paltrinieri non faccio lo sbruffone ma so di essere favorito tennis Fognini vince un torneo dopo due anni è merito di Flavia e poi ancora Tris Frum e nella storia Viv Le Tour poi ancora Gran Premio in Ungheria dominio a Hamilton trionfa ed è in testa al mondiale Fetter IV dietro Ricciardo verso Rio ok del CIO Russia all'Olimpiade e per il doping di Stato il caso passa alle federazioni andiamo all'interno della gazzetta a vedere un po' di pagine Maurito è il domino Napoli 37 milioni sui cardi per sostituire Higuain risponde l'Inter nemmeno per 60 diritti di immagine brand personale una rivoluzione per De Laurentiis avanti ancora tra Mancini e l'Inter e alta tensione il tecnico sempre più irritato per l'assenza di un progetto inutile l'ultimo incontro con Toir e il mercato la chiave del Rebus poi vedremo che su questa vicenda il Corriere dello Sport avrà una lettura ancora più tranciante avanti ancora Andanovic regala il PSG ringrazia due incertezze del portiere sui gol di Oriere Kurzawa l'Inter però tiene e fa splendere Jovetic il PSG si impone per 3 a 1 e sul fronte Napoli Sarri uomo in più in casa Napoli la stella è in panca la stagione da record non è servita il tecnico è deluso ora ha bisogno di risposte e di rinforzi avanti ancora con le amichevoli c'è spazio anche per Pescara Teramo Oddo sorride Caprari è già in palla entra segna e il Pescara convince tutto questo nell'articolo firmato dal collega Orlando D'Angelo avanti per vedere la pagina sull'europeo Under 19 la Francia è una furia Zorrini resta l'argento dopo 20 minuti l'Italia è già sotto 2 a 0 nella ripresa arrivano altri due gol applausi comunque il secondo posto all'europeo era quasi impensabile ci sono le dichiarazioni del selezionatore Paolo Vanoli noi orgogliosi loro più forti ed esperti avanti ancora con la Formula 1 Dubdance Lewis vince già la prima curva ed esulta come Pogba scavalcato Rosberg più 6 il vantaggio per la prima volta in questa stagione Hamilton è in testa al mondiale a 6 punti su Rosberg il trionfatore Hamilton supera Schumi ma stona quel dito medio nel doppiaggio a Gutierrez poi Ferrari polemica è discutibile la guida di Max Raikkonen dice ha cambiato traiettoria due volte replica dell'olandese è lui che mi ha colpito avanti ora con il Tour de France Froome nel segno dei grandi e Chris mira già alla cinquina non vedo l'ora di tornare qui Parigi applaude il terzo trionfo al Tour del Britannico che adesso ha davanti solo anche Till Merckx Ino e Indurain sul podio il re in giallo ricorda le vittime del terrorismo e chiude con Vive la France azzurro pallido Nibali e Auru senza gioie brilla Caruso e poi andiamo a chiudere con la gazzetta con le parole di Gregorio Paltrinieri non faccio lo sbruffone ma so bene di essere favorito l'Emiliano prepara i 1500 tra fatiche isolamento e controlli antidoping più la gara è stressante più mi piace Sun Yang ha pagato deve pensare che sia devo pensare che sia pulito ma vorrei che testassero tutti come me lasciamo la gazzetta dello sport e andiamo al corriere dello sport vi ho detto che sul caso Mancini il corriere più tranciante infatti questa è l'apertura Mancini è finita il ciclone Juve scuota dai rivali che agitazione il tecnico si scontra con Toir all'Inter è caos totale il club gli nega il rinnovo ora licenziamento o dimissioni per il cambio è già pronto Frank De Boer sotto la testata la Formula 1 Ferraris profondo rosso anche il futuro a rischio a Budapest triunfa Hamilton Vettel e Raikkonen mai in corsa e se ne va il DT Ellison chi costruirà l'auto del 2017 sempre in prima pagina di spalla De Laurentiis è pronto a tutto per avere i cardi offre 40 milioni ieri incontro a Verona con lo staff del Bomber 5 anni di contratto a 5 milioni e mezzo a stagione per il dopo Higuain e intanto i bianconeri non si fermano mai per Allegri un altro rinforzo in arrivo uno tra Matic e Witzel con Pogba pronto per il Manchester la società prepara un colpo in mezzo non è tramontata l'idea mascherano andiamo a vedere le pagine all'interno del Corriere bianconeri scatenati Juve no limits c'è la paura di una Serie A senza storia il principe del gol in una dimora reale il Pipita ha preso casa a Torino a 30 mila euro al mese e poi la rottura tra Mancio e Inter la storia è finita il presidente Tohir dice no al rinnovo licenziamento o dimissioni ecco gli scenari e poi Tohir ha deciso tutto su De Boer come alternativa l'olandese a maggio si è congedato dall'Ajax vediamo anche la pagina sulla Michevole di ieri a Palena ecco qui Pescara Oddo occorrono subito dei rinforzi il tecnico parla chiaro Pisarro perché no voglio elementi motivati serve qualità nella Michevole contro il Teramo in gol Caprari su rigore e Benadì Brugman e Manai ok tutto questo nell'articolo firmato da Giancarlo Febbo e questo articolo che troviamo sul Corriere ci introduce anche alle pagine di Centro e Messaggero possiamo andare dunque sul Centro con l'attenzione appunto sulla Michevole di Palena e tra poco andremo ad ascoltare le parole pronunciate dal tecnico Massimo Oddo nella conferenza stampa che si è tenuta prima dell'Amichevole il derby Pescara subito Caprari show entra e decide l'Amichevole contro il Teramo festa per i 2000 nel segno di Sansovini Biancazzurri sempre corti e ordinati ma la fatica della preparazione si fa sentire il tecnico Biancorosso Zauli sono contento per il massimo impegno espresso dai ragazzi poi come abbiamo detto in precedenza vedendo sulla Gazzetta Vitturini il sogno sfuma in finale campionato europeo la nazionale Under 19 sconfitta 4 a 0 dalla Francia la curiosità la GM Ovini di ciclismo Tifa Delfino questa è la foto del patron Marchesani della GM con il presidente del Pescara Daniele Sebastiani e poi appunto le parole del tecnico Massimo Oddo Pisarro magari ma di Osvaldo non parlo sfuma mandragora dalla Juventus rischia di essere operato nuovamente l'Inter si è ritirata dalla corsa per arrivare a Verre ma c'è sempre la Sampdoria Lescovic faceva parte di una trattativa ed è andato altrove potrebbe capitare anche in futuro nel mercato c'è molta competizione mi fido dei miei centrali e poi vorrei avere un paio di soluzioni in ogni ruolo i giocatori arriveranno e dovranno essere funzionali al nostro progetto tecnico ieri peraltro è stato anche presentato il nuovo responsabile nel settore giovanile del Pescara Giuseppe Geria con Geria per costruire la boutique del calcio Sebastiani presente il nuovo responsabile del settore giovanile guida per i club dell'Abruzzo e poi ancora sulla sponda biancorossa il Teramo in palla aspetta la Team Cup domenica d'Alessandria primo turno a eliminazione diretta indicazioni positive per il tecnico Zauli nella fase 1 del ritiro il regista Amadio e il difensore Dorazio già in forma qui vediamo una foto appunto del neotecnico biancorosso Lamberto Zauli entusiasmo tra i tifosi e goliardia nel gruppo festa per il compleanno dello storico magazziniere Rastelli giovedì amichevole sul campo dell'Avezzano ma facciamo un passo indietro come detto prima della partita ha parlato il tecnico biancazzurro Massimo Oddo che ha fatto il punto soprattutto per quel che concerne il mercato su quelli che potranno essere gli sviluppi e su quello che manca alla squadra per essere completata le parole di Massimo Oddo dovranno arrivare giocatori che vanno a completare una rosa non è che vengono a fare i titolari se lo meritano giocatori di titolari se non giocano quelli che ci sono perché sono anche abbastanza bravi quindi non è un grosso problema però la concorrenza è normale che ci sia più vai su in alto è la normalità no non temo di perdere Berre se Berre starà qui io sono contentissimo che è qui se Berre dovesse andare via sono contentissimo che va via perché vuol dire che è una sua scelta e allora non ci poteva dare nulla ci può che è una sua scelta vuol dire che non avea che non ha le giuste motivazioni o più motivazione ad andare da un'altra parte e noi faremo con altro senza problemi senza problemi mettere il vetro in una scelta spesso si sentono alle attore non puoi fare nulla in questo caso no ma io posso anche mettere il vetro ma se poi il ragazzo vuole andare via io voglio motivazione voglio giocatori motivati vogliono giocatori che credono ciecamente in questo progetto e soprattutto voglio giocatori che credono in se stessi sicuramente una pedina serve adesso se più in mezzo più una mezzala a questo non posso rispondere però secondo quella che è la mia mentalità cercheremo di trovare un giocatore che sa fare più ruoli come lo sono tutti i nostri giocatori del centro campo Berre può fare il trequartista la mezzala il play Memusha è più o meno la stessa cosa e Torreira l'anno scorso faceva tutti e quattro i ruoli e Benadì può fare il trequartista e la mezzala quindi nella nostra idea di gioco che è un gioco in cui c'è anche molta interscambiabilità dei ruoli e quant'altro e facciamo di questo la nostra forza ho bisogno nei limiti del possibile avere giocatori che sappiano fare più cose ma non mi fate i nomi non vi rispondo sui nomi noi dobbiamo cercare una punta chi mi chiedete chi non lo so vedremo mi propongono cento giocatori al giorno io li vedo li valuto con attenzione e poi poi sceglieremo allora l'identikit della punta deve avere due caratteristiche deve essere funzionale e deve essere forte deve essere funzionale e deve essere forte la struttura non conta se uno è forte può essere uno in 90 o uno in 70 per me è sempre forte quindi non cambia niente bene queste le parole di Massimo andiamo a vedere anche sul messaggero Abruzzo Pescara Blitz per Palacios i biancazzurri preparano un doppio colpo in Argentina con Simeone può arrivare anche l'attaccante del Boca nuovi colloqui con Inter e Samp per la cessione di Verre tra le alternative Pinzi Biondini e l'ex Laziale Mauri il mancato arrivo di Nacio alla Roma blocca l'arrivo di Ghiomber Stendardo e Cherubin le alternative settore giovanile Geria lavoriamo per la prima squadra e poi sul fronte amichevole Caprari e Benalin in gol Teramo battuto 2 a 0 i biancazzurri accelerano nella ripresa con la vecchia guardia tanti applausi per Sansovini e poi ci sono anche le parole del presidente del Teramo Campitelli che è soddisfatto Amadio resta con noi e allora facciamo così andiamo proprio ad ascoltare le parole del presidente del Teramo Campitelli che parla anche della situazione di Amadio parla anche della situazione Gironi fa le sue considerazioni e poi dopo aver ascoltato il numero 1 bianco rosso vedremo anche i riflessi filmati della partita con le azioni saliente allora spazio all'intervista al presidente Campitelli penso che sia stata una festa sia per i nostri tifosi che quella del Pescara è namichevole quindi non ci dobbiamo né saltare né abbattere credo che abbiamo fatto un primo tempo molto bello credo che la squadra sia una squadra molto colibrata che piace giocare a calcio ma la cosa più importante è che stanno creandosi tra di loro un gruppo importante un gruppo che che c'è scherzosità spirito giusto e questi sono i primi segnali importanti il nostro obiettivo senza creare grossi entusiasmi rimane i playoff e noi su questo dobbiamo lavorare partita dopo partita cercare di fare i playoff di far crescere la squadra perché è una squadra molto giovane e se cominciano a fare risultati a crescere sicuramente ci toglieremo delle belle soddisfazioni oggi in campo Amadio dal primo minuto si è parlato tanto della sua situazione resta a Teramo sarà uno dei tasselli per la prossima stagione ma Amadio si è visto oggi quanto vale resterà a Teramo in settimana allungheremo il contratto e quindi è un giocatore importante del Teramo è un giocatore che dovrà restare a Teramo ancora per qualche anno c'è sempre questa incognità del Parma che se fosse inserito in un girone renderebbe difficile la lotta per il primo posto però insomma è una squadra questa che può far sognare io credo che i gironi se li fanno nel giusto il Parma deve stare nel giurone nel nord noi dobbiamo stare nel giurone del centro e poi ci sarà il giurone del sud invece se vogliono mischiare tutto giustamente dove si farà sorteggio e dove si andrà a capitare giusto come adesso che noi giochiamo ad Alessandri non possiamo competere con una società e con una squadra come Parma che ha fatto la Serie A per tantissimi anni noi il calcio è bello perché le sorprese possono avvenire in qualsiasi momento noi non dobbiamo fare la corsa sicuramente a nessuno noi giocheremo le nostre partite e abbiamo tutto per poter toglierci qualche soddisfazione e cercheremo di toglierci Bene queste le parole del Presidente del Teramo Campitelli ora vediamo le immagini della partita che si è giocata ieri allo stadio al campo gli Angeli di Palena almeno 2000 persone presenti la maggior parte da Pescara ma c'erano anche 300-400 persone a corse da Teramo queste le immagini del prepartito del momento del riscaldamento diversi anche gli assenti nel Pescara Fornasier Cocco Bruno Zampano e Crescenzi tutti per qualche problemino fisico dovuto appunto alla preparazione ma anche nel Teramo mancavano il Capitano Speranza Ilari Petrella anche Orlando quindi insomma assenze su entrambi i fronti e qui siamo alle prime battute Pescara che ovviamente ha fatto la partita ma ha trovato qualche difficoltà sul piano della manovra contro un Teramo ordinato questo è un colpo di testa di Ray Manai sulla fondo sulla destra di Cristante poi la risposta del Teramo con uno dei tanti ex di giornata ovvero Luca Forte poi ancora Marco Sanzovini ieri applauditissimo qui una sua bella azione personale con un sinistro sopra la traversa a metà frazione la punizione di Manai deviata dalla barriera che finisce sopra la traversa poi questa è una bella ripartenza del Teramo con Forte che serve croce e c'è il salvataggio di Zuparic proprio davanti a Fiorillo questa è stata una grande opportunità per il Teramo la risposta del Pescara con un affondo di Mitrizza che ha giocato ieri il primo tempo con Nicastro e Manai e poi questa è una delle migliori palle gol per il Teramo cross di Dorazio tra i migliori in campo colpo di testa di Sanzovini di poco a lato e poi in chiusura di primo tempo questo sinistro alto di Peterman nella ripresa ci sono i cambi che danno più forza più verva al Pescara mentre nel Teramo scende un po' la qualità viste le assenze e i tanti giovani messi in campo da Zauli nel secondo tempo il Pescara dunque se ne avvantaggia prima un tiro di Benali di poco alto poi c'è questo salvataggio di Manganelli sotto porta e poi il fallo di Peterman su Caprari calcio di rigore che viene trasformato dallo stesso attaccante romano ora di proprietà dell'Inter Caprari subito in palle poi c'è il raddoppio del Pescara con l'azione di Manai che serve la corrente Benali il suo sinistro Fulmila Calore che nel secondo tempo aveva preso il posto di Francesco Rossi Calore che viene proprio dal Pescara uno dei giocatori in prestito proprio dai Biancazzurri al Teramo dopodiché il Pescara continuerà a menare le danze il Teramo limiterà i danni non ci saranno altri spunti di cronaca particolari il finale dunque con la vittoria del Pescara per 2 a 0 come abbiamo visto Caprari su rigore e Benali in gol proseguiamo la nostra rassegna stampa torniamo sul centro il futuro del Lanciano Rossoneri in bilico peraltro io ringrazio Gaetano Tero di GT Foto Video che ieri ha realizzato le riprese e a proposito di queste riprese questa sera potrete assistere alla telecronaca differita della gara tra Pescara e Teramo a partire dalle ore 21 e in riferimento anche a quanto si dice qui del futuro del Lanciano nel corso della telecronaca che abbiamo realizzato ci sarà anche un intervento dell'avvocato Donato Di Campli che parlerà anche della situazione del Lanciano un intervento che abbiamo registrato nel corso del secondo tempo e parole sue che non sono molto incoraggianti per il futuro del calcio a Lanciano di cui si parla anche in questo articolo del centro Rossoneri in bilico l'ipotesi di e in salita c'è tempo fino a giovedì per trovare i 300 mila euro il difensore Amenta alla Juve Stabia in lega prova anche De Silvestro a Ancona Iudo e Bergamini avanti ancora con la serie D le sei cugine Chieti una città in ansia oggi la cessione del club la società ha un gruppo laziale Campano domani scade l'iscrizione poi ci sono le date Coppa Italia il 21 e 28 agosto il campionato il 4 di settembre qui troviamo delle foto con alcuni ultras del Chieti e il patron uscente del Chieti Calcio Giorgio Pomponi in basso Pineto al lavoro senza l'infortunato Cole Luori arrivati sei fuori quota alla corte di Ammazzalorso interventi per adeguare lo stadio alle notturne e poi l'Aquila ricomincia senza Portanova inizia il raduno a Campo Felice sfuma l'arrivo del difensore e poi San Nicolò in difesa Novello e Balzano Epifani costruita squadra importante al via alla preparazione a Castel del Monte fino al 4 di agosto e poi sul fronte Avezzano Mennao altro anno con l'Avezzano giovedì amichevole contro il Teramo il difensore confermato da Paris il senegalese Nghiaie al Massese parte l'avventura della nuova Vastese ritiro in Molise si aggrega anche Fiore ecco i prezzi degli abbonamenti avanti ancora qui siamo con il mercato di eccellenza Potacqui al Sambuceto Morro d'Oro su Torbidone in basso Anzivino sulla panchina dello Sporting Casolana avanti ancora con la crono scalata di Popoli Fagioli Tricolore con Record podio di alto livello con Zitec Scola RS Plus Derby D'Abruzzo all'Aquilano Ghizzoni Brilla D'Agostino volevo scendere sotto i tre minuti ci riproverò il vincitore dice non è stato facile ottimo secondo posto per Scola ho fatto una gara al limite per il basket di A2 Proger la spunta arriva Golden so che farà punti soddisfatto coach Gallip ora per completare il roster utile un uomo che possa giocare sia da tre che da quattro sul fronte Roseto gli Sharks a caccia piace il pivot Paci Radonich quasi fatta passo lento il Roseto allestisce la squadra accanto al Montenegrino esperto lungo casa grande torniamo ora al messaggero e vediamo per la serie D è il giorno della verità per la salvezza del Chieti mentre invece situazione più chiara all'Aquila l'Aquila al lavoro con un unico obiettivo risalire in Lega Pro il DS Battisti mancano ancora tre o quattro pezzi ci sarà da lottare ma tutti insieme dobbiamo riuscire a riempire lo stadio e riportare entusiasmo in città ad Avezzano primo giorno di lavoro e poi la Vastese riparte e sogna Fiore anche sul messaggero grande spazio alle svolte di Popoli Fagioli batte tutti il pilota toscano ha frantumato pure tutti i record del tracciato abruzzese l'edizione è tornata ad essere valida per il campionato italiano di velocità alle sue spalle si sono piazzati Scola e Maggiona la Quirano Ghizzoni primo classificato tra gli abruzzesi e poi per il calcio dopo oltre 60 anni finisce la storia del lauretum sempre per il calcio direttantistico Delgrosso a Giulianova una questione di cuore ho avuto tante offerte ma voglio giocare con la maglia della mia città e quindi ripartirà dal Real Giulianova in promozione Federico Delgrosso sempre per i direttanti Cupello e San Buceto sempre più scatenati nel mercato appunto dei direttanti molto attivi anche San Salvo e Paterno Simone Bordoni dall'Angolana al Torre Alex noi finiamo qui la rassegna stampa di mattino 6 vi ricordo gli appuntamenti con il Tg alle ore 14 alle 19 alle 23 io ringrazio in regia Gianni Dareo e ringrazio voi per la cortese attenzione io vi auguro una buona giornata grazie a tutti Grazie a tutti.